ciao ragazzi sono Mario il coach come state spero bene allora oggi in questo workout fatto di sei giri proviamo a sviluppare tre esercizi quindi nel meno tempo possibile double under quindi il doppio giro di corda il wall ball quindi la palla al muro attenzione unbroken come direbbero quelli bravi cerca di farli ininterrottamente e poi sono dieci ring dips quindi dips agli anelli attenzione quindi gambe e braccia a fuoco li deve fare sei giri nel meno tempo possibile se hai qualsiasi domanda o qualche doppio mi iscrivi sotto nella descrizione trovi tutti i link per imparare con diversi tutorial gli esercizi principali e farli in tutta sicurezza vado a dare un'occhiata io dico grazie aver guardato questo video noi ci vediamo alla prossima e tu allena più bene ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti